Terza variazione di bilancio 2022-2024 approvata a maggioranza dall'Assemblea Toscana approvati anche una serie di emendamenti presentati dal Presidente della Giunta Eugenio Gianni Festa della Toscana, la libertà di espressione è il tema dell'edizione di quest'anno le celebrazioni del 30 novembre si apriranno con la saluta solenne del Consiglio regionale grande attesa per lo spettacolo Voce di Libertà al Teatro della Città di Cascina Un lungo dibattito, quello che si è tenuto in aula nella giornata di mercoledì 23 novembre con 24 voti a favore e 13 contrari il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 La terza variazione al bilancio si componeva di due distinti atti la proposta di legge 154 e la proposta di legge 155 ambe due votate a maggioranza Durante la votazione sono stati approvati anche una serie di emendamenti presentati dal Presidente della Giunta Eugenio Gianni L'ultima variazione di bilancio consente di inquadrare quello che è stata l'attività economico-finanziaria della regione toscana il fatto di avere solo tre variazioni di bilancio in un anno da conferma dell'ottima attività di programmazione che c'era nel bilancio che approvammo alla fine del 2021 il bilancio di previsione 2022 e questo quindi conforta la correttezza, la serietà la forza dell'azione amministrativa della regione toscana Questa è una variazione di bilancio che si è rivolta soprattutto al sostegno alle attività culturali 4 quinti della spesa corrente che è stata prevista è stata per le attività culturali come sempre l'ultima variazione di bilancio e devo dire che anche dalla mancanza di rilievi su queste politiche culturali che è venuta in consiglio ne trago lo stimolo del ben fatto rispetto a quello che è la politica di sostegno alle biblioteche ai musei alle fondazioni liriche alle fondazioni teatrali che la regione toscana ha messo in campo sono altresì convinto che la variazione di bilancio rende molto equilibrato rispetto al territorio il livello degli investimenti che la Toscana e con la parte corrente il sostegno alle istituzioni che gestiscono dal Pucciniano al Carnevale di Viareggio dal Teatro Comunale di Firenze a quello che sono la rete dei musei toscani alla Pergola che interviene a Firenze come a Ponte d'Ereo e a Peccioli insomma una possibilità di vedere una buona gestione attraverso il sostegno della regione e degli ottimi investimenti Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive tuttavia questa manovra presenta alcuni tratti importanti molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante appunto autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito tra gli interventi più significativi di questa manovra si registra senza dubbio lo stanziamento di 46 milioni a favore della sanità a favore delle nostre aziende sanitarie locali e degli enti derivati del sistema sanitario regionale si tratta di 10 milioni che vengono assegnati all'ospedale di Cisanello per gli importanti lavori che qui si stanno svolgendo e per il rincaro che c'è stato dei costi dell'energia e delle materie prime ma dall'altra parte ci sono altri 36 milioni che vengono messi a disposizione delle aziende sanitarie per i servizi sanitari questo perché le aziende nel tempo hanno dovuto effettuare una serie di investimenti sull'edilizia che non sono coperti dall'articolo 20 della legge dell'88 e quindi oggi la regione stanzia in conto capitale 36 milioni allo scopo proprio di permettere investimenti in edilizia sanitaria garantendo però il rispetto dei livelli di servizi sanitari che abbiamo avuto fino a questo momento un atto molto importante che Tel Avivo ha sostenuto con forza perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori a partire dal sistema sanitario per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni riguardano le palestre scolastiche riguardano impianti sportivi riguardano teatri cinema il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse la regione toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori Tel Avivo è stata determinante per portare questo atto in aula rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare dopo due anni di mandato una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche dei rifiuti pensiamo al sostegno alle imprese abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora affaticano dopo l'esperienza del covid che hanno problemi a pagare le bollette quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin da primi mesi del 2023 siamo coerentemente e fortemente contrari a questa variazione di bilancio e al provvedimento di interventi ad essa relativo innanzitutto non ci è piaciuto il metodo perché la manovra è stata approvata dalla giunta il 17 ottobre ed è arrivata in consiglio soltanto l'8 di novembre in prima commissione abbiamo fatto le corse per studiare in modo approfondito gli atti quando poi abbiamo visto per motivi politici di tenute della maggioranza addirittura tre rinvii il presidente Gianni continua ad avere una concezione aristocratica dell'attività di governo come se i rappresentanti del popolo fossero dei meri obliteratori delle proprie decisioni così non va ma siamo anche molto scettici per quanto riguarda questa serie di rimodulazioni di rinvii e di opere strategiche che i toscani aspettano ormai da anni potenziamento e modernamento della rete ferroviaria e gli interventi sulle infrastrutture viarie siamo preoccupati per la tenuta dei conti della sanità questa terza variazione arrivano 46 milioni di cui 10 per Cisanello e 36 per coprire dei buchi che sono stati fatti con l'utilizzo di fondi correnti dall'asile per manutenzione straordinaria altra procedura impropria per quanto sostiene la Corte dei Conti tendiamo intanto un velo pietoso e speriamo sia l'ultima volta e lo dobbiamo stendere sulle modalità con le quali la Giunta Giani pretende che le opposizioni vivano il Consiglio regionale della Toscana è arrivata una variazione di bilancio che è composta da 49 articoli diventati ieri sera poi 53 sono stati consegnati nella sua versione definitiva ai consiglieri ieri alle 15 chiedendoci stamattina di votarli dopo che c'erano stati concessi 8 giorni scarsi per poterle discutere motivando gli 8 giorni con la massima urgenza in 8 giorni non si legge un bilancio non si legge un bilancio fatto come questo questo è un bilancio che ha al suo interno 20 articoli che servono a rimandare al prossimo anno gli investimenti che erano previsti per quest'anno e sono gli stessi investimenti che l'anno scorso avevamo rimandato a quest'anno e che nel 2020 avevamo rimandato al 2021 e non si parla di opere che non servono alla Toscana ma si parla di opere che servono come il pane alla nostra regione il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca non è una cosa che non serve la viabilità nelle province di Pistoia di Prato di Pisa non è che non serve di Lucca non è che non servono sono cose fondamentali per la nostra regione e gli investimenti vengono rimandati poi ci sono tutta una serie di nuovi interventi puntuali che parlano di ristrutturare un cinema un teatro un impianto sportivo in un comune piuttosto che in un altro che necessitavano di un approfondimento di un mese si conferma l'impressione che la giunta operi con interventi a spot senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della regione toscana ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti in questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate ma c'è anche delle cose straordinarie ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di massa dopo che la regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal ministero dal MITE a causa di una sua endemica inerzia e non solo sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana stessa cosa per le opere infrastrutturali per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime ma non per tutte quindi viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di due anni di mandato ovvero una totale assenza di programmazione misure estemporanee misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana non c'è niente per le imprese non c'è niente per le famiglie non c'è diciamo un ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti ecco perché naturalmente su questo noi esprimeremo totalmente un voto contrario rimangono ancora dei capitoli aperti il capitolo del bilancio della sanità ancora non sappiamo esattamente l'entità delle risorse che ci saranno si cerca di scaricare le incertezze sui bilanci sulle politiche del governo quando in realtà sembra che arriveranno altri fondi c'è ancora aperta la questione delle società partecipate c'è sostanzialmente un caos che naturalmente abbiamo visto esprimersi al massimo anche nella difficoltà in quello che io ho definito quasi uno psicodramma di approvare poi in commissione questa variazione segno evidente che c'è anche naturalmente una crisi politica dietro a questi provvedimenti che naturalmente noi stentiamo a definire manovre finanziarie che non tengono assolutamente conto nemmeno del contesto socio-economico che pure Irpet ha delineato con una certa chiarezza è la libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della nostra costituzione il tema della festa della Toscana 2022 istituita per celebrare l'abolizione della pena di morte per la prima volta al mondo da parte del granduca di Toscana Pietro Leopoldo il 30 novembre 1789 la festa giunge quest'anno alla sua 23esima edizione e afferma l'impegno per la promozione dei diritti umani della pace e della giustizia come elemento costitutivo dell'identità della Toscana tanti gli eventi previsti per la giornata il programma si aprirà mercoledì 30 novembre alle ore 11 con la seduta solenne del consiglio regionale al cinema la compagnia grande attesa alla sera per lo spettacolo voci di libertà al teatro della città di Cascina cerchiamo ogni anno di innovarla partendo da un dato nel 1786 la Toscana è stata la prima regione al mondo ad avorire la pena di morte una pena di morte che purtroppo ancora oggi metà degli stati al mondo applicano e la Toscana è sempre stata e sempre sarà terra di diritti una terra che non si è mai voltata dall'altra parte ecco perché ogni anno abbiamo deciso dal momento in cui sono diventato presidente del consiglio regionale di legarla a un fatto di attualità insieme all'ufficio di presidenza quest'anno abbiamo deciso di porre l'attenzione sul tema della libertà di espressione in un tempo in cui sempre meno c'è possibilità di esprimermi seppur la rete permette di avere spazi ambi in un momento in cui ci sono questioni che toccano le vite di ciascuno di noi noi sul tema della libertà di espressione vogliamo fare un focus parlando soprattutto alle ragazze più giovani essere nata in Toscana fa parte della grandissima lotteria delle nascite quindi non c'è merito l'unico pungolo che posso portare con me è quello di esserne degna e allora a questa chiamata non si poteva non rispondere la festa della Toscana è veramente la festa di tutti noi la Toscana che per prima ha abolito la pena di morte che ha fatto dell'accoglienza un'arma potentissima e allora tutte queste anime artistiche resistenti non ci sono ovviamente solo io ci mancherebbe altro con me Ginevra Di Marco Francesco Magnelli Andrino Salvadori Giovanni Truppi Vasco Brondi e Tlon che tiene proprio come fil rouge tutto questo gruppo di anime rivoluzionarie la direzione artistica è stata di Francesco Carlucci che ci ha tenuto pazientemente e con entusiasmo insieme per quanto riguarda lo spettacolo teatrale appunto costruito con Francesco Magnelli Andrino Salvadori e Ginevra Di Marco è un percorso di parole e canzoni attorno al tema della libertà ci sarà una pagina iraniana a cui tengo moltissimo passeremo dal Sud America ritorniamo nella Toscana e uno dice come è possibile tutto questo beh quando si parla di libertà forse è possibile perché le frontiere diventano davvero accoglienti i confini si fanno più labili a cui